Allora, noi abbiamo appena finito il colpa del casino, poi vi farò vedere il video. Ecco, per ora abbiamo, ora, nel senso che ho preso quasi tutto quello che mi serve, prenderemo, la GB700, ma non quella però, con le metaglie elettrici, questa qui, perché, boh, è fisco. Però la prendiamo, la prendiamo, ho il posto di questo, l'avevo fatta per fare un glitch, e con 120.000 dollari, ce li diamo da parte, anche perché non ci posso fare nulla. I don't want a kingdom, haha, anzi no, me la modifico. Ah, tra l'altro, andiamo a prendere i cash, i cash, I don't want a kingdom, haha, one church, bene, chiamaci tutto in tasca, Aspettate un secondo, raga, un secondissimo. Cos'è cazzo non capisci che devo andare? Ah, credo che, ma tu vai a, vai a provare a mangiare? Fino al tanto deve essere un panino, non torna giù bila. Ok, dai, lascio alzare, raga. Andiamo, aspettiamo, attinghiamo, cari villaggio, i B700. Oh, ecco. Eccola! ecco la me lo mangio qua al panino ah ok ora, io sai cosa ho preso fra indovina? no cosa ho preso? no devi indovinare non me ne manca ho preso il mark 1 l'ho preso al mark 1 se vabbè come posso fare costa un botto costa di meno o di più di un milione? di meno ardent no no è un veicolo o una macchina? si c'è, ovvio è una macchina diciamo un po' classica e molte persone si sono lamentate perchè è una sfida un'altra tipo ma te prego non ne hai comprata veramente da jb700 senza metragliatrici no no evviva però mi sono avanzato i soldi ora ho 170.000 cash ci stanno delle cazzo metragliatrici che sono false vabbè a me l'unica cosa mi dà festività è che ci stanno quelle medaglie elettrici che vorrei togliere perchè io non voglio averci lato con le medaglie elettrici voglio averci lato così ah guarda che bella sembra la macchina di mozio vediamo le prestazioni senza modifiche sono pari a un carciofo evviva no aspetta dai non tanto dov'è? dov'è lo santo scasto? ecco acquisto della giornata evviva bella ho acquistato questa cosa per il semplice fatto per tanto non c'è più un canale da comprare su gta entra frana smetti di fare così ma sto mangiando? non ti fai così armature mettiamo questa poi freni motori massimo claxon esplosivi ah vabbè quella droga per evasione targhe verniciature quello principale croumano metallici oh goldadetta marra cos'è lo? ma che caro no mi devo fare tipo un colore vecchio domina che auto compro io boh è un'auto tra virgolette vecchia perchè comunque è vecchia però non c'ha quello stile ok l'ho modificato l'ho fatto d'oro mh mh placate no è una macchina vecchia però tra virgolette da rally mi sembra non lo so bene com'è la cula fudo no costa di più c'è poco di più oh la il modello è al massimo guarda quanto è più otta a madonna no 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 non è un wow non è un brutto acquisto comunque ti avevo detto che è di bennie la foto è di bennie fammi capire si no quel cazzo che la foto è di bennie no aspetta un attimo ma te lo dico qual'è un'auto hai preso la truffate ho detto costa poco ed è tra virgolette vecchia aaaaaaa la sultan l'hai detto prima si la sultan ma tu quanti soldi hai? ho ben un milione e 570 mila per modificarmi quella fantastica auto ma te lo faccio custom te lo faccio custom e un coglione con l'oppressor mi ha sparato eccomi fra io mangio la pizza mentre gioco eh ok però non gioco parlo solo buongiorno buongiorno come stai? è bellissima c'è fra? si si eh no eri un attimo laggato che si può dire? se si può dire eri un attimo laggato ma che è trazione anteriore alla sultan ho detto voi ho controllato ma la posteriore che cazzo è sta pizza? ma con che gusto è? olive e pomodori se capisci che cazzo di pizza è? pizza merda ecco non hai manco quella scola tu ti sei ancora un video? si certo ah in live o in video? ah in video video ok ciao raga buongiorno dai questo presto a tutto il mio e non lo voglio ma non lo so non lo so non lo so